potrebbe sembrare una scenetta ma vi assicuro che non è una scenetta purtroppo sono veramente rimasto bloccato con la schiena colpo della strega fortissimo non è la prima volta che soffro di questi mal di schiena però questa volta è stato veramente micidiale oltretutto mi è venuto appena arrivato stamattina stavo facendo un lavoro per sistemare una perdita sotto al lavandino sicuramente la posizione in naturale inarcata poi forse appena sveglio la mattina fitta tremenda rimasto completamente praticamente paralizzato non riuscivo a muovermi fortunatamente non ero da solo ero qui con una mia amica che mi ha dato una mano e mi sono seduto e poi successivamente sono riuscito a spostarmi qui ho messo questo tappetino esterno sono riuscito a fare un po di esercizi di stretching per cercare di rilassare un pochino la contrattura e la schiena purtroppo non era il contenuto che avrei voluto proporvi in questo video però alla fine ho pensato anche che forse era giusto condividere anche insomma gli imprevisti perché penso che questa cosa non sia nel primo nell'ultimo cui capita sicuramente anche a molti di voi è capitata comunque significa che va bene non ho proprio più vent'anni e quindi devo fare molta attenzione anche a ciò che faccio alle posizioni che tengo oltretutto sicuramente la mia schiena è stata forzata durante il corso del tempo anche proprio trasportando vari materiali e di conseguenza ecco ha una schiena abbastanza sensibile quindi purtroppo questo video è solo così un piccolo racconto di questa sventura cosa avrei dovuto fare oggi avrei dovuto sistemare questa perdita avrei dovuto montare un nuovo boiler per la doccia esterna ho preso un pochino più grosso soprattutto devo in ogni caso dare una controllata alle api perché questo è il periodo fondamentale è quello in cui si fa il miele la fioritura del castagno si avvicina qua siamo ancora un pochino indietro ma ci siamo quasi quindi devo dare un'occhiata ai melari non è tantissimo lavoro ma almeno un'occhiata la devo dare il problema è che proprio non riesco a fare le cose base proprio le attività più semplici e quindi avrei dovuto per esempio lecespugliare avrei dovuto fare un sacco di altre cose lasciamole da parte ma al di là di queste farò fatica proprio anche a per l'appunto come dicevo fare le cose basilari a muovermi a cucinare a svolgere le funzioni normali quotidiane in tutto ciò spero ovviamente che questo dolore che comunque già facendo questi esercizi è andato abbastanza migliorando adesso proseguirò a fare esercizi di stretching per rilassare la schiena mi auguro che per domani passi anche perché comunque ho un sentiero non lunghissimo ma sicuramente non è una passeggiata su strada asfaltata quindi ritornare con questo mal di schiena come allo stato attuale è un bel problema e quindi spero insomma di migliorare quindi questi giorni sono dedicati al riposo assoluto ahimè quindi spero di tornare presto senza più alcun tipo di dolore alla schiena e vi spero di proporvi un contenuto sicuramente più interessante di questo riprenderemo da dove ci siamo lasciati quindi facendo tutto quello che avrei dovuto fare questo weekend direi che per questo video è tutto ci vediamo alla prossima ciao a tutti da luca ciao 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 Grazie a tutti.